Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi lunedì, direi 16 luglio, forse ho scritto 17, mi sono sbagliato e lo cambierò. Vediamo cosa è successo sui giornali. La cosa fondamentale oggi sui giornali è il contrasto, non all'interno del governo, perché questo era ieri, di contrasto all'interno del governo si diceva che sulla questione del decreto di dignità ci sarebbe stata una mano al Ministero di Tria ad aver cambiato la relazione tecnica, adesso invece Tria e Di Maio si mettono d'accordo, la manina non è quella di Tria, ma con un incredibile comunicato congiunto sembra che la mania sia quella dell'Inps e non di Busacca, il direttore generale dell'Inps, il segretario tecnico, non mi ricordo oggi dove parlano tutti quanti i giornali, ma addirittura di Boeri, cioè è Boeri che avrebbe fatto, buongiorno Rita, buongiorno Deborah, sarebbe stato proprio Boeri in persona ad aver aggiunto il fatto che ci sono 8 mila possibili disoccupati in più all'anno per il decreto dignità. Io vi faccio un discorso molto semplice, in realtà il lavoro è una prestazione, è come una merce direbbe Marx, io non penso che sia come una merce, ma insomma c'è un elemento molto semplice che lo capisce forse anche un bambino che non ha fatto grandi scuole di economia. Se una merce o una prestazione costa più cara, probabilmente c'è una riduzione della domanda di quella merce e di quella prestazione, non è che ci sono tanti dubbi, è una delle leggi economiche più semplici del mondo, oggi attraverso il decreto dignità, come si vede bene oggi dal sole 24 ore in un articolo bellissimo, un dipendente che venisse preso a tempo determinato rispetto a un dipendente preso a tempo indeterminato costa 300 euro in più al mese, 300 euro in più, mentre invece un dipendente a tempo determinato passato da un'agenzia di somministrazione alle famose interinali 400 euro in più, ovviamente rispetto al punto di riferimento è un 35enne senza lavoro con il quale oggi lo Stato dà dei grandissimi incentivi. Quanti sono i contratti a termine di quest'anno? 7 milioni, quindi su 7 milioni l'aumento ulteriore del costo dei contratti a tempo determinato, secondo il governo e Tridico farà diventare tutti questi lavoratori a tempo indeterminato, secondo il buonsenso, l'Inps e i numeri è evidente che una parte di questi contratti, sono 80 mila i contratti che ogni anno sono fuori legge perché sono sopra i 24 mesi, perché oggi non è possibile più fare un contratto a termine sopra i 24 mesi, quindi su 80 mila fuori legge, in maniera ottimistica come dice Boeri, almeno il 10% rimarranno a casa. Siamo felici? No, non siamo felici che rimangono a casa, siamo compiaciuti, ma è una cosa banalissima, è facilissima. Ogni anno ci sono 80 mila contratti a termine fuori legge, perché fuori legge? Perché l'ha previsto Di Maio, perché l'ha previsto Di Maio? perché durano più di due anni. A questo punto su 80 mila contratti fuori legge, probabilmente il 10% sarà mandato a casa a calci nel sedere, come tante persone mi hanno scritto è già avvenuto. Non contento di questo, cosa succede? Che se io faccio un altro rinnovo anche al quarto mese, all'ottavo mese, al dodicesimo mese, pago più caro quel contratto rispetto a un contratto a tempo indeterminato e anche questo avrà un effetto negativo, che peraltro non è previsto una relazione tecnica. Perché la relazione tecnica, come scrivono oggi i giornali, deve scrivere questi effetti negativi? Perché se rimango a casa mi costa di più per l'assistenza, per la disoccupazione, quindi c'è un costo sociale. Chiaro? Quindi non è che c'è una manina, peraltro una manina su 8 mila lavoratori meno all'anno non mi sembra una manina che abbia fatto quei numeri incredibili. Oggi Boeri da qualche parte dice che siamo stati anche ottimisti. Sul sole 24 ore leggete tutti quanti i numeri, ma la cosa è... un mio amico lavora da 5 anni per un'azenzia interinale, purtroppo non ho fatto in tempo... vuoi la schiavitù? dice Amintor. Sì, sì, vuoi la schiavitù, voglio la schiavitù. Un contratto a termine è una schiavitù. Invece lavorare a contratto a tempo indeterminato, a 800 euro al mese, partendo da un apprendistato e vivendo tutta la vita in un call center, quella non è la schiavitù. Cioè vogliamo essere e no? Eh? Vogliamo fare tutti quanti i fenomeni. Quella è la schiavitù. Certo, la schiavitù è lavorare a tempo determinato, mentre lavorare a tempo indeterminato non è mai comunque schiavitù. Eccetto, chiaro, vabbè, lasciamo perdere, perché con questi non c'è discussione. Come dice giustamente Boeri, si tratta di negazionismo economico, ma la cosa più divertente è un retroscena che ho letto oggi un po' su tutti i giornali, Corriere, ma non solo. Cosa sta succedendo? Sta succedendo una cosa molto semplice, che dopo l'attacco di Di Maio a Tria si è pensato che in realtà l'uomo che volesse essere fatto fuori dal Movimento 5 Stelle, che fa un comunicato, fa trapelare fonti, ieri che ci sono delle viper al Ministero dell'Economia, che bisogna fare pulizia alla ragioneria, beh, si vuole far fuori il ragioniere dello Stato, che è quello che tiene i conti. È un uomo che sta antipatico a tutti i governi, quelli precedenti, Berlusconi, Renzi, perché il ragioniere dello Stato, che cos'è un ragioniere? Cioè non pensa ai fini della politica, pensa ai conti che quadrino. Questo ragioniere dello Stato è un tecnico ovviamente e che cosa succede? Che Tria, per difendere il suo ragioniere dello Stato, che è fondamentale a settembre e ottobre, quando si farà la finanziaria, ha accettato, pur di difendere il suo ragioniere dello Stato, di buttare fango sull'Inps e su Boeri, con un piccolo particolare, che la relazione tecnica che contiene questi 8 mila disoccupati dell'Inps e di Boeri, come è scritto su tutti i giornali oggi, da chi è stata avvistata? Dalla ragioneria dello Stato. Quindi si è scritta una cagata, Boeri l'ha avallata la ragioneria dello Stato. Dunque, il punto fondamentale di Tria oggi è difendere il ragioniere dello Stato, che è il baluardo dei conti e dell'equilibrio dei conti, secondo l'istituzione del Ministero del Tesoro negli ultimi 50 anni. Sui migranti mi devo correggere rispetto a quello che io pensavo nel passato, ne ho commentato con voi tante volte, perché ero stato un po' scettico su quell'accordo che sarebbe stato raggiunto in Europa, tutto basato sulla volontarietà. Ve lo ricordate quando parlavo di quell'accordo europeo in cui si è ottenuto poco. In realtà, ieri, dopo che è sbarcata la nave che era stata tenuta fuori da Pozzallo e Salvini per qualche giorno, Salvini è riuscito a utilizzare proprio quell'accordo che su base volontaria fa sì che 50 andranno in Francia, 50 andranno in Germania, 50 andranno in Spagna, 50 in Portogallo e anche in Germania. Quindi a distribuire in Europa quello che prima non era distribuibile. Insomma, questo comunque un passo avanti, qualcuno oggi sfotte su qualche giornale che Conte non si può occupare di 50 persone da mandare in Germania, c'è ben cose più importanti da fare che questo. Devo dire che però il segnale è importante e l'idea che comunque l'Europa possa accogliere quello che soltanto prima accoglieva l'Italia è interessante. Così come è interessante, lo noto oggi in Repubblica, che coloro che non vogliono la distribuzione di questi migranti, chi sono? Proprio quelli che Salvini considera i propri alleati, cioè il patto di Visegrad, cioè Cecchia, Ungheria, cioè tutti quei paesi che non hanno la più voglia di utilizzare quell'accordo in termini volontari. Andiamo avanti, un piccolo dettaglio, oggi il Daily Mail, il giornale popolare inglese titola La polizia ha perso il controllo. Sostanzialmente, secondo un sondaggio, il 57% degli inglesi pensano che i criminali in Inghilterra non hanno paura di essere presi. Fantastico come tutto il mondo è paese o tutto il paese è mondo, però anche l'Inghilterra non si sente così sicura. Molto divertente oggi un approfondimento. Andiamo ancora su due interviste che bisogna segnalarvi. Una di Moavero e Libero, sono due che non parlano mai, Savona e Moavero. Oggi Savona parla con la verità di Belpietro e Moavero parla per Libero di Feltri, cioè due belle interviste. Moavero dice, incredibile leggere oggi Moavero, perché non ti sembra che questo sia stato capo di gabinetto di Monti dal 1995 al 2000, non ti sembra che sia stato il più europeista dei ministri dei passati governi, non ti sembra quello che lasciava delle piccole pilloline di saggezza europeista per Corriere della Sera. Oggi no. Moavero l'intervista me la trovo su Libero, come cambia il mondo, straordinario. Moavero che secondo me Libero ci avrebbe sputato sopra, come sul giornale, sulla verità, sui giornali che non erano il Corriere, forse, ma direi il Corriere della Sera. Oggi invece Moavero sul Libero dice, abbiamo svegliato l'Europa, Salvini rispetta gli accordi, non sono i sovranisti ma i governi a creare problemi all'Unione Europea. A questo punto alzo le mani, tutti giallo-verdi. Se Moavero dice queste cose, alziamo le mani, Moavero, fra un po' te lo vedrò, a ballando sotto le stelle. Cioè se uno, come Moavero, dice queste cose, e io le condivido in parte, quello che dice nella sostanza, ma è l'idea che venga da Moavero intervistato da Libero, da Senaldi che è bravissimo, devo dire, fa delle interviste sempre molto belle, io sono certo che tra poco ci sarà Moavero a ballando sotto le stelle, con Millie Carlucci che si fa un bel dancing. Sicuro? Garantito? Sì, mi sono svegliato da poco, Françoise, dalle sette purtroppo stamattina. Savona, altra intervista, ma Savona è stato sempre un po' più terrodosso, mentre Moavero, uno di quelli che l'ultima volta che aveva un capello spettinato, glielo disse la presidentessa della RAI, ve la ricordate? La presidentessa della RAI, quella che veniva dalla Banca d'Italia, quella che c'era tutti i capelli perfetti, la cofan di perfetti capelli, era presidente, come si chiamava? Insieme a Gubitosi c'era la presidentessa. Ecco, mi sembrano Moavero e la presidentessa della RAI insieme, i due perfettini, tu ve li vedete che fanno un'intervista al Libero? No, non me li vedo, che dicono che c'ha ragione Salvini che si mette le felpe e c'ha, che ne so, e c'ha quei dieci braccialetti, e cambiate il mondo. Savona invece è sempre stato un po' più terrodosso. La tarantola, bravo, bravo, qualcuno di voi mi ha detto la tarantola, grazie a Cristian, sembra Alessandro Anchiusai, ciao Alessandro. Moavero e la tarantola, Alessandro, sembrano, capito, i due che c'erano l'ultima volta che hanno avuto una cravatta, un capello fuori posto e sono andati all'ospedale. Savona invece fa un'intervista alla verità, di cui io non ho capito nulla, ve lo dico la verità, io non ho capito nulla, io chiedo, venia, nel senso che non lo dico, non lo dico ballando con le stelle, non sotto le stelle, scusami Umberto, io non lo vedo mai, ballando su, vabbè, insomma. Ho letto l'intervista di Savona e non l'ho capita, non l'ho capita, io devo dire, Savona è un grandissimo professore universitario, ho grande stima di Savona, Martino, che è un mio professore di cui ho grande stima, mi ha detto, la pensiamo diversamente di Savona, ma attraverso pensieri diversi spesso arriviamo a conclusioni simili, anche perché Savona è un chienesiano. Oggi lui ci spiega che si possono fare flat tax, sono ben contento, si può cambiare la fornero, mica tanto, sono contento, e si può fare il reddito di cittadinanza, e su questo sono affatto contento, beh, insomma, si possono fare queste tre cose tranquillamente, perché dice, si recuperano 50 miliardi, allora io dico, come si recuperano quei 50 miliardi? Beh, lui fa un ragionamento, si deve fare un piano di investimenti di 50 miliardi, insomma, tu devi prendere dei soldi per fare queste cose, poi fai un piano di investimenti di 50 miliardi, a casa mia si sommano il piano di investimenti di 50 miliardi più 50 miliardi di milioni introiti, certo, il piano di investimenti aumenterebbe il PIL, aumenterebbe anche le entrate fiscali, perché se io investo, beh, ci sta, però, insomma, queste due cose sono, io le metto tutte e due come due elementi, diciamo, negativi, anche se positivi dal punto di sostanziale del reddito, ma come si fa? Perché 50 miliardi sono il nostro avanzo della bilancia con l'estero, e beh, che cosa vuol dire? Come fai a confrontare le pere e le mere? L'avanzo con l'estero deriva dal fatto che vendo più parmigiano, grazie al CETA, di quanto importo parmesan, il fatto che vendo più macchinari di quanto ne importo, vendo più auto di quanto ne importo, certo, importerò più elettronica, ma non è sufficiente a dare una bilancia negativa? Noi abbiamo 50 miliardi positivi di export rispetto all'import, questo mi dice Moavero. Ma cosa c'entri questo? Che è perfettamente privato, con le spese dello Stato, che è perfettamente pubblico, io non l'ho capite. Comunque, è molto interessante se l'ho capita in intervista a Savona e la leggete oggi sulla verità. Direi che per oggi è tutto. Roberta, non toccarmi Savona, no, non te lo tocco, è solo che non lo capisco, quindi Roberta, se me lo spiegate, mandatemi dei disegnini, mi spiegate quello che ha detto voi. Sarebbero distrazioni di fonti, non lo so. Qualche saluto e commento. Non si sente, come non si sente lì? Hanno sentito tutto, spero finora. Perché tu sei ignorante e quindi non puoi comprendere, dice Paolo, furgele mi sembra, perché tu sei un ignorante e quindi non puoi comprendere. Può anche dare, io in questo sono veramente ignorante, io non ho ben capito cosa senti l'avanzo primario. Se non lo capisci te che sei del settore, per me è arabo, dice Cristian, anche Grana, Padano, sempre articoli interessanti. Ragazzi, basta con i vostri commenti, io devo andare, vi saluto e vi do appuntamento sul sito nicolaporro.it dove ci sono tante altre cose. Eh sì, Francesca, ho finito. Grazie a Giovanna che ci sta guardando, ma purtroppo abbiamo concluso la zuppa di oggi. Adesso cambio 17 in 16. Ciao!